Sono due gradini che ci sapevano dall'arrivo, Gianni Morandi! Gianni Morandi! Più attese, più desiderate, c'è il commerciale, il pesadito di San Divo di Gianni Morandi. Gira un ragazzo, come me, a fare io se non li so, girava il mondo, veniva a tutti gli Stati Uniti d'America. Parlami di te, bella signora, parlami di te, che non ho paura, parla di scende la pioggia, ma che fa? Dai, mi sento che stiamo abbastanza bene, dai! Parlami di te, bella signora, parlami di te, che non ho paura, 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 parlami di te, che, non ho paura, parlami di te. Grazie a tutti.